Specializzato in spaccate alle auto, agiva soprattutto di domenica nei piazzali di patronati e centri commerciali ed infatti la polizia lo ha arrestato ieri mattina a Praglia. In manette dopo l'ennesimo colpo e danni di un'autovettura, Matteo Cavazza Giostraio, 34 anni, è residente a Campodoro. L'uomo alcune settimane fa era già stato arrestato dopo un furto con una spaccata ad una lavanderia a Villa Franca Padovana. Sulla sua auto è stato trovato il kit del perfetto ladro, composto da Grimaldelli, un dispositivo per coprire la targa e dei numeri adesivi utilizzati per camuffare la targa del mezzo su cui si muoveva in caso di fuga. Ancora una truffa ai danni di un'anziana padovana. La signora, 89enne, è stata raggirata da una donna che ha suonato alla porta di casa sua in via Tre Garofani fingendo di venderle un antifurto. La malvivente si è presentata a casa proponendo un sistema d'allarme contro i furti di gioielli. Con questa scusa ha convinto l'anziana a tirare fuori tutti i suoi preziosi più il contante che teneva in casa. Poi ha distratto l'89enne ed è scappata con il bottino circa 5.000 euro di valore. È rimasto a terra per due giorni prima di essere soccorso brutta avventura per un anziano residente di via Brenta a Rubano. L'uomo, 72 anni, era caduto dal letto ed è rimasto steso a terra, dolorante, per due giorni perché non riusciva a muoversi. È stato trovato solo domenica, nel tardo pomeriggio, nella sua abitazione dopo l'allarme dei vicini che non lo vedevano uscire. Un violento litigio con la moglie, tanto che i vicini preoccupati hanno chiamato i carabinieri. Ma giunti sul posto, i militari sono stati a loro volta aggrediti dal 41enne, livido di rabbia che li ha colpiti con violenza. È accaduto ieri a Selvazzano, l'uomo alla fine è stato immobilizzato e arrestato con l'accusa di violenza e resistenza pubblico ufficiale.